Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 fare attenzione per pioggia tra Sassomarconi e Chiusi-Chianciano, così come in A11 tra Firenze e Peretola e Pisa Nord. E sta piovendo anche sulla Fipili tra Firenze e Livorno, in A15 nebbia tra Pontremoli e Berceto. Sulla statale 3 bis Tiberina, riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Modonuccia, Poggiolino e Sansepolcro Nord. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per Frana, Trappopiglio e La Lima. I traghetti a causa delle avverse condizioni meteo, i collegamenti con le isole potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!